Oggi proveremo a rispondere ad una di quelle domande che da buoni italiani sicuramente ci saremo fatti. Conviene di più tenere i soldi in banca o in posta? Ad un certo punto della nostra vita abbiamo infatti dovuto scegliere dove mettere i nostri primi risparmi o magari i nostri primi stipendi. La scelta però è tutt'altro che semplice, infatti i soldi non crescono certo sugli alberi e non possiamo permetterci di fare scelte sbagliate. Una cosa però è sicura, che si tratti di conto corrente postale o bancario, la differenza è assolutamente inesistente, poiché con nessuno dei due potremo far fruttare i nostri soldi. Quindi dovremmo prendere questa decisione analizzando un altro fattore, ossia quali strumenti ci vengono messi a disposizione da queste due entità per far fruttare i nostri soldi. Direi quindi di iniziare con il video e cerchiamo di capire se conviene di più mettere i nostri soldi in banca o in posta. Amici ben ritrovati, io sono Don Maglio e direi di cominciare quindi ad analizzare quali sono i vantaggi di tenere i nostri soldi in banca. I conti correnti bancari sono assolutamente sicuri, infatti la quasi totalità dei conti correnti che possono venirci in mente aderiscono al fondo interbancario di tutela dei depositi che garantisce le nostre cifre in caso di problemi o fallimenti fino a 100.000 euro. I costi da sostenere per mantenere un conto corrente sono diversi e cambiano in base all'istituto di credito che andremo a scegliere. Senza dubbio però i costi su cui fare più attenzione sono quelli relativi alla tenuta del conto stesso che in alcuni casi possono essere davvero alti e poco giustificabili. Per questo motivo ti invito a iscriverti al mio canale dove troverai tantissime recensioni dei migliori conti e del miglior rapporto qualità-prezzo. I costi di prelievo e quelli relativi ad eventuali carte di credito o carneti assegni e ovviamente ai costi relativi alle imposte. È chiaro a tutti quindi che aprire un conto corrente non ci permette di guadagnare assolutamente nulla, anzi. E proprio per questo gli istituti bancari offrono altri servizi che ci aiutano a guadagnare degli interessi. Tra i più utilizzati senza dubbio troviamo i conti deposito che seppur con guadagni davvero bassi qualcosa fruttano oltre ai ben più performanti strumenti di investimento nel mercato azionario. Senza dubbio questi ultimi sono la scelta migliore per tutti coloro che vogliono accrescere il proprio patrimonio. Ma ovviamente attenzione ai costi di gestione di questi strumenti perché la maggior parte delle banche ha costi di gestione altissimi. Nonostante si tratti di qualcosa che possiamo fare personalmente con pochissimo sforzo e a un centesimo del prezzo proposto da questi istituti. Ovviamente su questo canale trovi info anche su questi argomenti. Per quanto riguarda i conti postali dal punto di vista della sicurezza beh le cose sono un po' diverse. Postitaliani infatti non aderisce al fondo interbancario di tutela dei depositi ma i propri correntisti sono tutelati dallo Stato o per meglio dire dalla Cassa Depositi e Prestiti. Questo vuol dire che salvo fallimento dello Stato italiano se fallisse l'istituzione poste italiane noi avremmo garantiti tutti i soldi che abbiamo sui nostri conti anche qualora superiore a 100.000 euro almeno è così sulla carta. Per quanto riguarda invece i costi dei conti correnti postali beh le differenze sono praticamente inesistenti. A differenza di qualche decennio fa dove era mediamente più conveniente aprire un conto corrente postale. Anche prende un conto corrente postale ovviamente i nostri risparmi rimarranno lì e si svaluteranno motivo per il quale anche Poste Italiane ha la sua offerta di strumenti. Il più famoso fra tutti ovviamente è il libretto postale di cui abbiamo parlato in questo video che però di base ha un tasso di interesse dello 0,001% se non ricordo male ma che di tanto in tanto esce con delle offerte che possono essere abbastanza allettanti e abbiamo parlato anche di questo in questo video. Inoltre la capillarità delle sedi poste italiane che sono fondamentalmente presenti in tutti i comuni anche quelli più piccoli e gli uffici aperti per metà giornata anche il sabato sono un vantaggio e sicuramente una bella comodità per tutti coloro che lavorano. Nel 2023 però fatte ovviamente le dovute eccezioni mi sembra un po' anacronistico andare ancora a disquisire su quale sia migliore fra la posta o la banca. Ovviamente faccio questo video anche per avere la tua opinione lasciamela scritta giù con un commento. Ti dico personalmente cosa faccio io? Io scelgo i conti correnti online che sono di molto più convenienti rispetto ai conti corrente normali sia che siano di banca o di posta e che poi udite udite prodotti come Buddy Bank, Hype, Widiba sono le versioni online degli stessi istituti di credito italiani più famosi. Quindi parere personale se ne saranno accorti anche loro che i prezzi ormai sono alle stelle. Idem ovviamente anche per quanto riguarda far fruttare i nostri soldi in quanto ci sono grandi aziende specializzate proprio per far fruttare i nostri soldi attraverso le quali potremo ad esempio aprire un piano di accumulo nei mercati finanziari la maggior parte delle volte anche gratuitamente o comunque a prezzi bassissimi nell'ordine di un centesimo rispetto alle commissioni che troviamo nelle banche tradizionali ed ovviamente con la comodità di poterlo fare direttamente dal nostro smartphone. E se ho stuzzicato il vostro interesse beh sappiate che a breve uscirà un video proprio su questi argomenti. In descrizione qualora non l'aveste fatto vi lascio il link alla mia newsletter mensile dove una volta ogni 30 giorni vi racconto le cose più importanti e vi aggiorno su notizie che probabilmente vi siete persi. Come sempre ringrazio tutti per essere stati qui con me fino a questo momento e noi ci vediamo in un prossimo contenuto. Ciao giovani!